Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che continuiamo ad aprire con quanto ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso incontrando i sindacati per parlare di automotive e anche per condividere un documento con cui si chiede all'Europa di rinviare l'applicazione dei nuovi limiti sulle emissioni di anidride carbonica sempre più alto il rischio che molti costruttori per evitare multe saranno costretti a fermare la produzione di alcuni veicoli La transizione al green deve essere graduale e razionale, fanno notare i sindacati In apertura Andrea Nasillo È stato un confronto positivo e costruttivo, ora più che mai è importante andare tutti nella stessa direzione rimanendo coesi come sistema paese in un momento di radicale cambiamento per l'Europa Così il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al termine dell'incontro con i sindacati metalmeccanici sul pressing per la revisione dei regolamenti europei nei settori dell'auto e della siderurgia Tra le proposte del documento l'istituzione di un fondo per la filiera e per i consumatori che acquistano vetture elettriche prodotte in Europa e l'avvio di una strategia per l'autonomia europea nella produzione di batterie utilizzando materie prime critiche estratte e lavorate nel continente Sette paesi tra cui l'Italia propongono di anticipare a inizio 2025 l'attivazione della clausola di revisione del regolamento europeo sulle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri In sostanza sui limiti alle emissioni di anidride carbonica la richiesta dell'Italia di rinviare l'applicazione dei nuovi requisiti previsti nel 2025 e di annullare il relativo regime sanzionatorio In parole povere, Urso chiede di fermarsi un attimo Da un lato il mercato dell'elettrico è in crisi e dall'altro, per quanto riguarda gli attuali motori con i limiti di CO2 abbassati e le sanzioni previste molti costruttori minacciano di fermare la produzione Non si può non pensare quindi anche alla fabbrica Stellantis di Termoli Abbiamo davanti a noi un bollettino di guerra con chiusure e la rinuncia a progetti da parte dei costruttori Dobbiamo intervenire, ha detto Urso, subito cambiando la politica industriale europea affinché sia sostenibile per le imprese e il lavoro europeo di fronte alla concorrenza a volte sleale di altri attori di altri continenti È pronto anche un documento sulla siderurgia I sindacati sperano vivamente che il governo riesca a imporsi per una visione più graduale e razionale della cosiddetta transizione verde E aspre critiche nei confronti del ministro Urso arrivano dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Roberto Gravina, il Molise ha detto sta vivendo una delle crisi industriali e occupazionali più gravi della sua storia recente accentuata da politiche inadeguate e tardive da parte del ministro Urso e del governo Meloni La revoca dei fondi PNRR per la Gigafactory di Termoli è solo l'ultimo esempio di una gestione inefficace e poco Lungimirante, Gravina chiede un intervento diretto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri Non possiamo più permetterci il lusso di rincorrere gli eventi con proposte dell'ultimo minuto spesso già superate dai fatti e dalla storia La lentezza e l'immobilismo del ministro Urso ha concluso il consigliere regionale non stanno solo ritardando le soluzioni stanno mettendo a rischio l'intero settore E dalla crisi dell'auto alla crisi dell'acqua sarà aperto lunedì a Campobasso il tavolo permanente per controllare gli effetti della crisi idrica, sorgenti e invasi sono a secco ma il dato che preoccupa di più è quello della dispersione nelle condutture comunali per questo la Regione ha avviato una serie di controlli che interesseranno i comuni e ce ne parla Giovanni di Tota Quanta pioggia dovrà accadere per pareggiare i conti di una siccità generale che dura dal 2023 è quello che si domandano gli esperti dell'Associazione delle Bonifiche Irrigue e più in generale chi gestisce ai vari livelli l'erogazione dell'acqua un tema, quello della crisi idrica che sta colpendo soprattutto le regioni meridionali con particolare gravità per la Sicilia e la Puglia ma che da mesi ha avuto ripercussioni anche in Molise fino a qualche giorno fa solo Campobasso ha dovuto fare fronte con le chiusure notturne alla crisi dell'acqua poi gli enti che gestiscono la rete Moliseacque, Egam e Grim hanno convenuto che la strada migliore per evitare sprechi è proprio quella di interrompere per alcune ore l'erogazione in tutti i comuni lunedì a Campobasso sarà aperto il tavolo permanente che dovrà controllare la situazione per stabilire tempi e modalità delle chiusure e soprattutto dove sarà necessario continuare l'interruzione nelle ore notturne l'invaso di Guardia Alfiera è sotto gli occhi di tutti ha comunque una portata registrata anche in altri inverni molto più complicata la situazione del lago di Occhito la cui diga trattiene 28 milioni di metri cubi d'acqua appena l'11% della capacità totale della quale peraltro niente arriva in Molise anche le sorgenti sono ridotte Moliseacque ha certificato un flusso di circa 1500 litri al secondo contro i quasi 3000 soliti questo ha indotto gli enti e la regione a chiedere di rivedere gli accordi con la Campania ma le chiusure notturne e la considerazione generale quanto possono incidere sui consumi? poco, dicono dagli enti gestori ma l'interruzione serve a evitare spiegano Moliseacque e Grimm un'inutile dispersione nella gran parte delle reti comunali e per questo il presidente della regione Roberti ha dato incarico alla protezione civile di fare una ricognizione su quanto e dove bisogna rimettere a posto le condotte comunali nelle quali l'acqua che arriva ai rubinetti delle case nella migliore delle ipotesi è solo la metà di quella che viene immessa nelle condotte e intanto la Grimm ha comunicato le chiusure notturne dell'acqua nei comuni di Campobasso, Portocannone Campomarino, Baranello Vinchiaturo, Mirabello Ripa Limosani le interruzioni avverranno a partire dalle 23 di domani fino alle 5 di sabato mentre nel fine settimana l'acqua mancherà dalla mezzanotte di sabato fino alle 6 di domenica mattina e dalle 23 di domenica sera fino alle 5 di lunedì mattina e domani per lavori di manutenzione alla condotta e per riparare una perdita segnalata dai residenti di via Lombardia l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a partire dalle 9 alla scuola dell'infanzia Iovine e nella intersezione tra la stessa via Lombardia con via Friuli-Venezia-Giulia fino all'innesto con la tangenziale l'interruzione ha comunicato la Grimm durerà fino alla riparazione del guasto presumibilmente nel tardo pomeriggio è polemica nelle due province per i tagli delle direzioni di alcuni istituti scolastici protestano i sindaci della provincia di Isernia per il taglio a Carovilli a Campobasso la sindaca forte ha annunciato che porterà l'argomento alla prossima riunione del Lanci il servizio è di Davide Gambardella la mannaia dei tagli delle dirigenze scolastiche si abbatte anche sulla provincia di Isernia se a far discutere in Molise sono le quattro scuole di Campobasso due di Termole e una di Petacciato interessate dai ridimensionamenti anche nell'area Pentra non mancano le proteste dei primi cittadini a Campobasso la sindaca Maria Luisa Forte ha annunciato che presenterà la questione a Lanci ma a Roma potrebbero arrivare anche le osservazioni dei consiglieri provinciali di Via Berta Benafro e Carovilli comuni interessati dal dimensionamento scolastico decisione a partire dal 2025 che sta provocando notevoli malumori tra i sindaci i quali annunciano di voler ricorrere al TAR al momento la riunione Fiume in provincia di Isernia di questa mattina si è conclusa con un nulla di fatto l'ipotesi più accreditata è quella di un documento unitario da presentare alla regione Molise per scongiurare i tagli a far discutere in particolare il taglio del dirigente dell'istituto scolastico di Carovilli area interna del territorio che abbraccia l'utenza di ben 14 comuni purtroppo hanno preso di mira l'istituto altissimo Molise di Carovilli e il Pilla di Venafro guardando solo i numeri per la riunione di oggi spero dalla riunione di oggi spero che ne venga fuori altro nel senso che molti sono bravi a parlare di area interna di zone disagiate di zone svantaggiate e questo è il momento per dimostrare tutto questo i numeri è ovvio che danno noi come sfavoriti abbiamo 450 alunni però l'autonomia scolastica di Carovilli dell'altissimo Molise raccolpa 14 comuni scelte imposte da Roma ma di sicuro per il territorio sarà una sconfitta non possiamo fare politica su queste scelte non possiamo fare discorsi di campanilismo perché non ci renderebbero imparziali l'unico dato che abbiamo è quello tecnico ci atteniamo a quelle che sono le schede e la proposta dell'ufficio scolastico regionale e ci assumiamo una responsabilità tenendo conto di quelle che sono le rilevanze tecniche per il sindaco di Senna Piero Castrataro si tratta di una guerra tra poveri se la scelta dei tagli dovesse ricadere sul capoluogo di provincia sarà presentato ricorso al tribunale amministrativo io mi opporrò con tutte le forze è chiaro che non è solo quella politica c'è anche la via tra virgolette giudiziaria se fosse necessario lo farò a difesa di questa comunità come è giusto che sia ognuno purtroppo in questi momenti deve usare tutte le armi nel proprio possesso le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia e nel mondo e l'informazione e la comunicazione possono avere un ruolo fondamentale per favorire la conoscenza e spingere le persone a fare prevenzione pertanto l'ordine dei giornalisti del Molise il Responsible Research Hospital e l'Università degli Studi del Molise hanno organizzato il corso di formazione gratuito il 29 novembre alle 9 presso l'aula Crucitti del Responsible Research Hospital comunicare con il cuore per quattro crediti formativi deontologici proprio per la professione giornalistica Parliamo ora di sgravi contributivi e politiche del lavoro sono infatti i temi sui quali è stata depositata in Consiglio regionale una mozione a prima firma di Angelo Primiani il consigliere del Movimento 5 Stelle che venga ripristinata la decontribuzione fiscale del 30% prevista per il Sud Italia il provvedimento è a rischio cancellazione con la nuova finanziaria del governo Meloni a rischio dice sempre Primiani centinaia di imprese e migliaia di lavoratori il servizio è di Pasquale di Bello a rischio la decontribuzione fiscale del 30% per il mezzogiorno a lanciare l'allarme il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani che ha depositato nelle scorse ore una mozione in regione Primiani chiede che il presidente della regione si adoperi affinché il provvedimento venga invece mantenuto e venga scongiurata l'ipotesi cancellazione verso la quale sembra voglia andare la manovra finanziaria del governo Meloni a rischio dice Primiani centinaia di imprese e migliaia di lavoratori un quadro allarmante anche alla luce dei recenti dati pubblicati dallo Svimez che attestano un deciso arretramento del Molise nel settore industriale con un meno 13,5% e agricolo del 5,5% il recente rapporto Svimez restituisce un contesto molisano a tinte fosche perché da un lato si registra un pilli in crescita dell'1,4% trainato soprattutto dal settore dell'edilizia delle costruzioni e dei servizi ma dall'altro lato si registra una brusca frenata per quanto riguarda il settore dell'industria e dell'agricoltura in questo contesto era prevista e vigente una misura chiamata decontribuzione sud che prevedeva lo sgravio per tutte le imprese localizzate appunto nel centro sud d'Italia uno sgravio del 30% sulla contribuzione previdenziale per far fronte per favorire i datori di lavoro a battere i costi e quindi supportare l'attività e quindi nuove assunzioni questa misura non è più finanziata nella nuova legge di bilancio in discussione attualmente in Parlamento e con una mozione presentata in consiglio regionale intendiamo impegnare il governo regionale ma la sise tutta a portare avanti una posizione di rifinanziamento di questa misura essenziale per tutto il centro sud d'Italia ma soprattutto essenziale per tante piccole imprese molisane e voltiamo pagina atti persecutori e minacce nei confronti di alcuni familiari con queste ipotesi di reato i carabinieri hanno notificato un ordine di arresto emesso dal GIP del Tribunale di Campobasso su richiesta della Procura nei confronti di un giovane di 31 anni l'uomo nel corso degli ultimi mesi ha minacciato la zia e alcuni suoi parenti mal sopportando la loro presenza nella stessa casa le sue minacce il suo atteggiamento violento culminato con l'incendio di uno scooter hanno indotto la zia a lasciare l'appartamento e ad andare in affitto in un altro alloggio al termine delle indagini grazie anche alle testimonianze dei parenti è scattato il codice rosso e il giovane è stato arrestato parliamo ora della carenza di personale al Tribunale di Sernia situazione che peggiorerà a partire dal mese di gennaio il grido d'allarme è stato lanciato alla presentazione dello sportello di messa alla prova gli avvocati valutano proteste per chiedere al ministero la destinazione di nuove risorse tra magistrati e personale amministrativo sentiamo Davide Gambardella vive una situazione drammatica il Tribunale di Sernia a causa della mancanza di organico un meno 50% di magistrati e di personale amministrativo che a partire dal mese di gennaio condizionerà le attività dell'intera macchina giudiziaria un grido d'allarme lanciato in coro dal presidente del Tribunale di Sernia Vincenzo Di Giacomo e dal presidente degli avvocati Florindo di Lucente alla presentazione dello sportello operativo di messa alla prova uno strumento che mancava al capoluogo di provincia e che andrà a snellire i tempi della giustizia dinanzi alla carenza tabica di personale noi abbiamo aperto questo sportello presso il Tribunale che è un servizio che rendiamo al cittadino e anche agli avvocati e difensori finalizzato appunto alla messa alla prova cos'è la messa alla prova è stato previsto dal legislatore che per determinati reati meno gravi quelli puniti con penedittale massima fino a 4 anni il condannato oppure la persona sottoposta a procedimento penale possa chiedere questa messa alla prova negli anni vi sono state delle carenze di organico ed adesso queste si aggraveranno ulteriormente alla luce di ciò sarebbe necessario indispensabile un intervento urgente da parte del Ministero e del Consiglio Superiore della Magistratura tra poco io cesserò anche dalle mie funzioni per raggiungere limiti di età mancano anche altri magistrati alcuni trasferiti altri in maternità e quindi la situazione è molto grave nonostante la creazione di un ufficio ad hoc che dà la possibilità di richiedere la sospensione del procedimento penale e sostituirlo con un percorso di riparazione fino all'estinzione del reato le preoccupazioni degli addetti ai lavori restano intatte e vengono denunciate a scadere dell'anno 2024 ben vengono le come dire uffici decentrati presso come dire piccoli presidi di legalità questo vuole essere anche un grido d'allarme da parte mia per quanto riguarda la situazione del nostro tribunale perché a breve rischierà di essere di diventare drammatica perché veramente non abbiamo più organico sia a livello di magistrati che di personale amministrativo una carenza che si farà sentire a partire dal mese di gennaio febbraio ovviamente stiamo facendo di tutto per come dire cercare di porre rimedio ma non è semplice e mentre gli avvocati annunciano una protesta nei prossimi mesi contro la mancanza di personale nel tribunale di Sernia lo sportello MAP entra in funzione per agevolare il lavoro dei legali sernini questo sportello a Isernia non c'era perché c'era l'ufficio web direttamente a Campobasso adesso grazie all'iniziativa del presidente del tribunale e degli altri organi è stata aperta una sede qui a Isernia dove si possono agevolare il lavoro degli avvocati di tutte le parti perché hanno l'ufficio sul posto per adesso l'ufficio sarà presente un giorno a settimana ma dal gennaio è prevista un'apertura di quasi tutti i giorni una presenza costante del funzionario web di Campobasso che sarà qui a Isernia per raccogliere le varie stanze di messa alla prova ed agevolare la definizione dei processi ancora la cronaca sono arrivati appena in tempo l'uomo che aveva avvisato il 112 minacciando di lanciarsi nel vuoto era ancora sul parapetto del viadotto Longano allo svincolo di Isernia Sud i carabinieri hanno trovato questa persona aggrappata al parapetto visibilmente stanca e pronta a saltare dopo aver messo in sicurezza l'area hanno tranquillizzato l'uomo e sono riusciti ad afferrarlo bloccandolo vicino alla balaustra con l'aiuto degli agenti di polizia arrivati nel frattempo insieme ai vigili del fuoco l'uomo è stato poi affidato al personale sanitario del 118 per le prime cure del caso e successivamente trasportato all'ospedale veneziale di Isernia e ora andiamo a Larino un dialogo collettivo per ribadire il no alla violenza contro le donne un momento di confronto tra i relatori e il pubblico organizzato dall'amministrazione del comune frentano partendo proprio dal caso di Giulia Cecchettin c'era per noi Dalila Catenaro Cara Giulia un dialogo collettivo per gridare a gran voce il no alla violenza contro le donne nella sala Freda a Larino diversi relatori si sono confrontati in una tavola rotonda per parlare del tema delicato e purtroppo ricorrente del femminicidio da inizio anno sono 97 le donne uccise per mano di un uomo purtroppo i numeri sono drammatici nel convegno organizzato dall'amministrazione del comune frentano si è partiti dal caso di Giulia Cecchettin la studentessa di 22 anni uccisa lo scorso anno dal suo ex fidanzato come scuola noi affrontiamo questo tema in tutte diciamo le possibilità immaginabili cominciamo con approfondimenti sulla materia ma anche incontri con testimoni privilegiati e non solo anche con letture di brani di libri di poesie e purtroppo anche con dei minuti di silenzio che intestimoniano che ancora ad oggi stiamo a parlare di femminicidi e se guardiamo la statistica da un anno all'altro ce ne sono state quasi 100 molti autori di questi femminicidi sono le nuove generazioni sono ragazzi insomma abbastanza giovani e quindi noi come scuola dobbiamo assolutamente come presidio di legalità diffondere quei valori civici e sociali e etici senza trascurare però l'intervento con le famiglie parliamo di un argomento che purtroppo è così tristemente attuale è un argomento che quotidianamente entra nelle nostre case e questo è solo quello che noi conosciamo dai mass media ma chissà quanti altri casi nelle mura domestiche purtroppo ci sono e di cui noi non siamo a conoscenza e per cui credo sia proprio un nostro dovere creare questi momenti di sensibilizzazione anche per prendere coscienza di quella che deve essere ormai una cultura collettiva dobbiamo rieducarci un po' a tutti dobbiamo rieducare l'uomo alla cultura del rispetto della dignità della non prevaricazione dell'altro si celebra questo importante momento di riflessione dobbiamo mettere in campo tutte le forze culturali politiche anche professionali per cercare appunto di mantenere sempre vivo l'interesse ma soprattutto la consapevolezza che bisogna agire sin dalla prima infanzia sui nostri giovani e sempre in occasione della giornata contro la violenza sulle donne gli studenti dell'istituto IP a Montini di Campobasso hanno inaugurato una panchina a forma di cuore creata con vecchi banchi di scuola c'era per noi Mara Mancini tu sei mia non puoi essere di nessun altro sei di mia proprietà come la mia casa la mia macchina e il mio cane una panchina rossa un cuore spezzato quello realizzato dai ragazzi dell'istituto IP a Montini di Campobasso per omaggiare le tante troppe donne vittime di violenza in ogni angolo della scuola disegno e frasi poesie e foto panchine rosse e cuori i ragazzi in questo modo hanno espresso praticamente quello che poi hanno anche elaborato insieme ai professori questa giornata di oggi ha un valore particolare perché abbiamo la presenza di una psicologa e una psicoterapeuta la quale ci guida e ci aiuta anche nelle domande che i ragazzi stanno facendo perché i ragazzi hanno bisogno di aiuto e comprendere e capire anche la propria psiche e perché accadono delle cose particolari perché sorge la rabbia indirizzata in malo modo verso la violenza sulle donne ad esempio e quant'altro proteste condanne slogan eppure questo 2024 ha già contato 100 donne ammazzate da chi diceva di amarle una ogni tre giorni e chissà quante altre subiscono violenze quotidiane fisiche e psicologiche un pensiero va a tutte loro l'obiettivo dicono i ragazzi dell'IPIA deve essere parità di genere perché quando le donne camminano per strada devono sentirsi libere non coraggiose e perché una donna avrà vinto proprio quando sarà libera di camminare per strada sicura e viva oggi sul territorio molisano abbiamo una risposta fattiva attraverso i centri antiviolenza Bifri Molise e una casa rifugio in questi centri antiviolenza ci sono delle equip specializzate di operatrici che accolgono le donne e le accompagnano nei loro percorsi di fuoriuscita oggi sono onorata di essere qui in questa scuola dove stiamo lavorando tutti insieme per fare prevenzione e sensibilizzazione si deve ripartire dai giovani uomini dalle giovani donne e sradicare quello che è il patriarcato che purtroppo ancora incide fortemente nelle relazioni umane nelle relazioni tra uomo e donna e porta spesso a escalation così gravi fino al femminicidio è chiaro che la violenza di genere la violenza sulle donne è un fenomeno culturale educativo quindi avere la possibilità di entrare nelle scuole e lavorare con questi ragazzi a un'educazione sentimentale io dico sempre educazione psicosesso affettiva perché comprende tutte le dimensioni della persona e quindi poter lavorare con ragazzi e ragazze e far sì che questi ragazzi e queste ragazze inizino loro stesso a sradicare quelli che sono gli stereotipi e i pregiudizi legati alla violenza di genere cambiamo argomento è stato il molisano Domenico Ruggeri ad aggiudicarsi il primo posto nei campionati italiani della cucina 2024 che si sono svolti in provincia di Reggio Calabria lo chef originario di Campobasso e gestore di un noto ristorante nel centro storico di Termoli ha scalato il podio con un piatto tipico dal nome Moli un filetto di maiale alla tintiglia con polpetta di pizza e minestra e una ciambotta molisana con vegetali sparsi Ruggeri unico rappresentante del Molise alla gara insieme all'aiutante Alessandro Marinelli è arrivato primo nella categoria piatto caldo senior un riconoscimento che gli ha fatto ottenere il pass per entrare direttamente nel team nazionale cuochi con cui rappresenterà l'Italia nei campionati mondiali del prossimo anno e ora torniamo a Termoli oltre un mese di iniziative tra arte musica luci e magia è stato presentato infatti il calendario degli eventi natalizi tra gli appuntamenti clou il capodanno in piazza sentiamo ancora Andrea Nasillo la magia per i più piccoli aprirà gli eventi natalizi a Termoli il prossimo primo dicembre un ricco calendario di appuntamenti tra musica mercatini luci e colori il vice sindaco assessore alla cultura e al turismo Michele Barile in sala consigliare ha presentato insieme al suo staff tutto il programma fino al 6 gennaio si fonderanno novità e tradizioni in città un cartellone ricco di iniziative rivolto un po' a tutte le fasce d'età ma ovviamente con un occhio di riguardo sempre nei confronti dei più piccoli dei nostri bambini è un cartellone che spazia tra eventi culturali tra eventi diciamo un attimino più ludici tante le iniziative da quelle più tradizionali come il capodanno in piazza così come il mercatino di Natale che aprirà un po' il cartellone delle festività nel primo weekend anche la festa del cioccolato che ahimè non abbiamo potuto celebrare a novembre per via del maltempo l'abbiamo posticipata appunto nel secondo fine settimana di dicembre fino ad arrivare poi anche al capodanno in piazza che è uno degli eventi sicuramente più attesi del periodo del periodo natalizio dalla slitta alla carovana di Babbo Natale fino all'arrivo della Befana non mancheranno il premio gente di mare ma anche numerosi concerti e non solo arte e danza ma pure sapori e degustazioni tra gli eventi clou il capodanno in piazza un calendario da 52 mila euro come ha detto l'assessore Barile determinante il lavoro di squadra veramente fondamentale contributo quello il contributo appunto delle associazioni locali che come ogni anno sia in questa circostanza così come un po' in tutto l'anno solare diciamo spalleggiano un po' il nostro assessorato nella realizzazione di questi appuntamenti quindi a loro va il mio più sincero ringraziamento per aver dato anche in questo Natale il loro validissimo contributo ha conseguito oggi la decima laurea Michele Carmosino 76 anni definito simpaticamente dai giornali nazionali il collezionista di titoli accademici Carmosino si è laureato con il massimo dei voti in comunicazione ecco qui la foto biomedica scientifica all'Università La Sapienza di Roma la tesi sulla certificazione di qualità dell'azienda sanitaria locale Grande musica a Campobasso con il tema La Francia dall'impressionismo al seriale organizzato per la 56esima stagione concertistica degli amici della musica a esibirsi al Savoia a due stelle internazionali ci dice tutto Stefano Ricci Uno dei momenti artistici più alti quello che per l'edizione numero 56 della stagione concertistica degli amici della musica ha lasciato per quasi due ore sul legno del palco del Savoia due cameristi di lungo corso ormai di fama internazionale il violino e la viola di Michael Barenboim e il pianoforte di Natalia Pegarcova sua moglie dall'impressionismo al seriale il tema di un fil rouge tra i due strumenti con le aree di Ravel che non amava definirsi impressionista ma anche Chosson Conviotempli Liboulanger e Gabriele Forêt tutti uniti dall'attenzione al timbro dei loro strumenti un programma dedicato alla musica francese all'ottocento francese ma soprattutto anche un po' alla sua eredità perché Pierre Boulez morto pochi anni fa in fondo è l'ultimo dei grandi eredi di questa tradizione è bene che ci sia la sensibilità da parte delle direzioni artistiche di riproporre questi piccoli angoli di repertorio che se ce ne dimentichiamo poi a maggior ragione il pubblico finisce per perderli come riferimento un programma quello proposto dall'associazione sotto la guida artistica di Antonella De Angelis che promette ancora repertori di grande respiro la direzione artistica ha previsto una stagione in cui offre una varietà di concerti molto assortita e di livello sicuramente molto alto si concluderà con Cammariere che chiaramente non è il classico concerto di musica colta però rimane pur sempre di un altissimo livello sono cameristi di livello assoluto che hanno avuto esperienze con le orchestre più importanti citiamo solamente Berliner e peraltro li onora anche un cognome importante perché Michele è figlio di Daniel Barenboim il puro volontariato e la passione sono i motori che hanno sempre animato questa associazione la nostra esperienza io la definisco abbastanza unica ma anche importante in questa regione perché si tratta di un progetto che vede insieme in sinergia le istituzioni e i cittadini semplici e appassionati quali siamo noi e arriva in Molise questo fine settimana alla ricerca dell'uomo ragno lo spettacolo che racconta la storia degli 883 protagonista sul palco Mauro Repetto che fondò il gruppo insieme a Max Pezzali Repetto autore di molte hit del duo ripercorre le tappe del percorso che ha portato al grande successo degli 883 e grazie anche all'intelligenza artificiale interagisce con se stesso e con Pezzali così come erano da ragazzi lo spettacolo andrà in scena domani sera al Teatro Savoia di Campobasso e sabato sera all'auditorium di Isernia i biglietti sono in prevendita su Ticket One era l'ultima notizia termina qui l'ultima edizione del nostro telegiornale vi saluto come sempre ringraziandovi perché scegliete Telemolise buonanotte grazie a tutti